Il Liverpool va in vantaggio al quarto minuto con Dammel, addoppiando al quarto dicesimo minuto con Salah, con un Real Madrid completamente in bambula senza reagire, accorciando le distanze al ventunesimo e al trentasesimo minuto con Vinicius portando in parità la partita nella ripresa e Real Madrid ribarte la partita portandosi in vantaggio al quarantasettesimo. Militao con quarto e quinto gol di Benzema al cinquantacinquesimo e al sessantasettesimo, mettendo in crisi definitivamente il Liverpool di Klopp, portandosi in vantaggio con due gol di scarto compromettendo al Liverpool per il ritorno una qualificazione ormai compromessa. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!